16. Signora, io non la berrei se fossi al posto tuo, sicuro come la morte. Sorpresa dalla voce, sorella Cripp alzò gli occhi dalla pozzanghera d'acqua nera su cui era chinata. A pochi metri di distanza c'era un uomo, basso e rotondo, che indossava i resti laceri e bruciati di una pelliccia di visone. Sotto quegli stracci c'era un pigiama rosso di seta. Le sue gambe magre erano nude, ma aveva un paio di eleganti scarpe nere ai piedi. Il suo volto, rotondo e pallido come la luna, era ricoperto di ustioni e tutti i suoi capelli erano stati bruciati tranne per le basette e le sopracciglia grigie. Il volto era molto dilattato, il grosso naso e le guance erano gonfi come se stesse trattenendo il respiro. Essi vedevano le tracce blu di vasi sanguigni rotti. Nelle fessure delle sue orbite oculari, i suoi occhi castano scuro si spostavano dal volto di sorella Kripp alla pozzanghera e viceversa. «Quella robaccia è veleno», disse. «Ti ucciderà all'istante». Sorella Kripp restò accovacciata sopra la pozzanghera, come un animale che protegge una pozza d'acqua. Aveva trovato riparo dalla pioggia battente nell'abitacolo di un taxi e aveva provato a dormire lì per la notte lunga e miserabile, ma i suoi pochi minuti di riposo erano stati disturbati da allucinazioni della cosa con il volto che si fonde che aveva incontrato nel cinema. Non appena il cielo nero si era schiarito, assumendo il colore del fango di fiume, aveva lasciato il suo riparo tentando duramente di non guardare il cadavere sul sedile anteriore ed era andata in cerca di cibo e acqua. La pioggia era diminuita fino a degli occasionali scrosci di aghi, ma l'aria stava diventando più fredda. Il gelo sembrava quello di inizio novembre e lei stava tremando nei suoi abiti fradici. La pozzanghera di acqua piovana sotto il suo volto aveva l'odore di ceneri e zolfo, ma era così riarsa e assetata che stava per immergere la faccia e aprire la bocca. «Da quella parte c'è una condotta rotta, che stai rompendo come un geyser», disse l'uomo, e indicò verso quello che sorella Krip credeva essere il nord. «Sembra il vecchio fedele». La donna si allontanò dalla pozzanghera contaminata. Nella distanza rombavano tuoni, come un treno merci di passaggio, e non c'era modo di vedere il sole attraverso le nuvole basse e fangose. «Hai trovato qualcosa da mangiare?», gli chiese con le labbra gonfie. «Un paio di anelli di cipolle in quella che era una panetteria, suppongo. Ma non sono riuscito a tenerli nello stomaco. Mia moglie dice che sono il campione mondiale di vomito». Si mise una mano coperta di vesciche sulla pancia. «Soffro di ulcere e stomaco nervoso». Sorella Krip si alzò. Era quasi dieci centimetri più alta di lui. «Ho sete», disse. «Mi puoi portare all'acqua?». Lui guardò il cielo, voltando la testa verso il suono del tuono. Poi restò in silenzio, osservando le rovine intorno a loro. «Sto cercando di trovare un telefono o un poliziotto», disse. «Ho cercato per tutta la notte. Non riesci mai a trovare nessuna delle due cose quando ne hai bisogno, vero?». «È successo qualcosa di terribile», gli disse sorella Krip. «Non credo ci siano più telefoni o poliziotti». «Devo trovare un telefono», disse l'uomo con urgenza. «Vedi, mia moglie si chiederà cosa mi sia successo. Devo chiamarla e farle sapere che... che... sto bene». La sua voce si spense e fissò un paio di gambe che sbucavano rigide da una pila di ferro contorto e lastre di cemento. «Oh», sussurrò, e sorella Krip vide i suoi occhi appannarsi, come fa la nebbia sulle finestre. «È pazzo da legare», pensò, e iniziò a camminare verso nord, arrampicandosi su un'alta cresta di macerie. Pochi minuti dopo sentì l'ometto grasso respirare pesantemente quando la raggiunse. «Vedi», disse lui, «io non sono di queste parti. Sono di Detroit. Ho un negozio di scarpe nel centro commerciale Eastland. Sono qui per un convegno. Se mia moglie sente di questa cosa alla radio, si preoccuperà da morire». Sorella Krip grugnì in risposta. La sua mente era concentrata sull'acqua. «Mi chiamo Wisco», le disse lui. «Arthur Wisco». «Arty, in breve». «Devo trovare un telefono. Vedi, ho perso il portafogli, i vestiti e ogni dannata cosa. Io e alcuni dei ragazzi siamo stati fuori fino a tardi prima che accadesse questo. Quella mattina stavo vomitando ovunque. Mi sono perso i primi due incontri e sono rimasto a letto. Avevo le coperte sulla faccia ed improvviso c'è stata una luce infernale, un ruggito, e il mio letto è caduto dritto attraverso il pavimento. Diamine, l'intero albergo ha iniziato a tremare e a cadere a pezzi e io sono caduto attraverso una buca nell'atrio e sono finito nel seminterrato ancora nel mio letto. Quando sono riuscito a uscire, l'albergo era sparito». Fece una risatina folle. «Gesù, l'intero isolato era sparito». «Molti isolati sono spariti». «Sì, beh, i miei piedi erano molto scorticati. Che ironia, eh? Io artiuisco senza scarpe ai piedi e così ho dovuto togliere un paio di scarpe a...» La sua voce si spense di nuovo. Si avvicinarono alla cima della cresta. «Le bastarde sono fin troppo strette», disse. «Ma anche i miei piedi sono gonfi e ti dirò, le scarpe sono importanti. Dove sarebbe la gente senza scarpe? Ora, prendi per esempio quelle scarpe da tennis che indossi tu. Sono economiche e non ti dureranno molto». Sorella Cripp si voltò verso di lui. «Vuoi stare zitto?» domandò e poi tornò ad arrampicarsi. Lui resse per circa quaranta secondi. «Mia moglie diceva che non dovevo venirci qui. Diceva che mi sarei pentito del denaro speso. Non sono ricco. Ma ho detto, diamine, è solo una volta l'anno. Una volta l'anno nella grande mela, non è? È tutto scomparso!» gli urlò contro sorella Cripp. «Pazzo che non sei altro! Guardati in giro!» Arti si immobilizzò, fissandola. E quando aprì di nuovo la bocca, il suo volto teso e provato sembrava essere sul punto di strapparsi. «Per favore», sussurrò. «Per favore, non...» «Questo tizio è aggrappato alla sanità mentale con le unghie», si rese conto lei. Non c'era bisogno di tagliargli le dita. Scosse la testa. La cosa importante era evitare di cadere a pezzi. Tutto era scomparso, ma lei aveva ancora una scelta. Poteva sedersi lì, nelle macerie, e aspettare di morire. Oppure poteva trovare quell'acqua. «Scusami», disse. «Non ho dormito molto bene stanotte». L'espressione dell'uomo iniziò lentamente a mostrare segni di vita. «Sta diventando freddo», osservò. «Guarda, riesco a vedere il mio respiro». Emise un alito spettrale. «Tieni, ne hai più bisogno tu di me». Iniziò a togliersi la pelliccia di visone. «Ascolta, se mia moglie dovesse mai scoprire che ho indossato una pelliccia di visone, non la smetterà più». Lei respinse la pelliccia quando lui gliela offrì. Marti insistette. «Ehi, non preoccuparti, ce ne sono molte nel posto da cui arriva questa». Alla fine, solo perché continuassero a muoversi, sorella Crip gli permise di metterle addosso la pelliccia lacera. E lei passò la mano sul visone bruciato. «Mia moglie dice che so essere un gentiluomo quando voglio», le disse Arti. «Ehi, che è successo al tuo collo?» Sorella Crip si toccò la gola. «Qualcuno ha preso qualcosa che mi apparteneva», rispose. E poi si strinse la pelliccia intorno alle spalle per respingere il gelo. E continuò ad arrampicarsi. Era la prima volta in tutta la sua vita che indossava una pelliccia di visone. Quando raggiunse la cima della cresta, sentì il bisogno di urlare «Ehi, tutti voi poveri peccatori morti! Voltatevi e guardate una signora!» La città decimata si estendeva in tutte le direzioni. Sorella Crip iniziò a scendere dall'altro lato della cresta, con martivisco che la seguiva a poca distanza. L'uomo stava ancora blatterando di Detroit, di scarpe e del trovare un telefono, ma sorella Crip lo ignorò. «Mostrami l'acqua», gli disse quando raggiunsero il fondo. Lui si fermò e si guardò intorno per un minuto, come se stesse decidendo dove prendere un autobus. «Da questa parte», disse alla fine. E dovettero di nuovo arrampicarsi sul difficile terreno di muratura in frantumi, autodistrutte e metallo contorto. Per terra c'erano così tanti cadaveri, in vari stadi di decomposizione, che sorella Crip smise di trassalire quando ne calpestava uno. Arrivati in cima, Arti indicò qualcosa. «Eccola!» In basso, nella valle di distruzione, c'era una fontana d'acqua che zampillava da una crepa nel cemento. Nel cielo a est, una rete di lampi rossi attraversò le nuvole, seguita da un'esplosione ovattata e riecheggiante. Scesero nella vallata e camminarono su pile di quelli che erano stati tesori della civiltà fino a due giorni prima. Quadri bruciati ancora nelle loro cornici dorate, televisori e stereo fusi a metà. Resti deformati di ciotole da punch, tazze, coltelli, forchette, candelabri, carillon e secchielli da champagne in argento sterling e oro, frammenti di quelli che erano stati oggetti inestimabili di ceramica, vasi antichi, statue Art Deco, sculture africane e cristallo Waterford. I lampi si ripeterono, più vicini stavolta, e il bagliore rosso scintillò riflesso da migliaia di frammenti di gioielli sparpagliati tra le rovine, collane, braccialetti, anelli e spille. Vide un cartello che spuntava dalle macerie e quasi iniziò a ridere, ma temeva che se avesse iniziato avrebbe continuato fino a farsi esplodere il cervello. Il cartello diceva quinta strada. «Vedi?» Arti sollevò delle pellicce di visone con entrambe le mani. «Te lo dicevo che ce n'erano altre». Era immerso fino alle ginocchia in abiti eleganti carbonizzati, cappotti leopardati, vestaglie di ermellino, giacche in pelliccia di foca. Scelse la migliore pelliccia che riuscì a trovare e se la infilò a fatica. Sorella Krip si fermò a frugare in una pila di borse e valigette di pelle. Trovò una borsa grande con una buona tracolla robusta e se la pese alla spalla. Adesso non si sentiva più così nuda. Guardò la facciata nera da cui gli oggetti in pelle erano volati fuori e riuscì a individuare appena i resti di un'insegna. Gucci. Probabilmente era la borsa migliore che avesse mai posseduto. Erano quasi arrivati al geyser d'acqua, quando un lampo di luce fece brillare gli oggetti a terra come braci. Sorella Krip si fermò si chi no e ne raccolse uno. Era un pezzo di vetro della dimensione del suo pugno. Era stato fuso in un rumo e all'interno era disseminato di piccole gemme, rubini, che ardevano di un rosso scuro nel buio. Si guardò intorno e vide che i grumi di vetro erano ovunque tra le rovine, tutti fusi in forme strane dal calore, come se fossero state create da un soffiatore di vetro delirante. Non restava nulla dell'edificio davanti a lei, tranne un frammento di un muro di marmo verde. Ma guardò le rovine delle strutture che si trovavano sulla sinistra. Estrinse gli occhi per vedere attraverso il crepuscolo. Su un arco di marmo frantumato c'erano delle lettere. Tiff Ani. Tiffany, si rese conto sorella Krip. E se quello era stato Tiffany, allora lei si trovava proprio davanti a... Oh no! Sussurrò, mentre le lacrime iniziarono a scorrerle dagli occhi. Oh no! Oh no! Era davanti a quello che era stato il suo posto magico, il negozio Stubenglass, e tutto quello che restava dei bellissimi tesori scolpiti erano i grumi senza forma ai suoi piedi. Il posto dove era venuta a sognare davanti alle vetrine di vetro freddo era sparito, strappato dalle fondamenta e sparpagliato. La vista di quella distruzione, paragonata al ricordo di quello che c'era stato, era un'esperienza snervante, come se le fosse stata sbattuta in faccia la porta del paradiso. Restò immobile, tranne per le lacrime che le scorrevano sulle guance coperte di vesciche. «Guarda qua!» esclamò Artie. Sollevò un ottagono deformato di vetro, pieno di diamanti, rubini e zaffiri. «Hai mai visto qualcosa del genere prima? Guarda! Sono ovunque qua intorno!» Allungò le mani nelle macerie e tirò fuori manciate di vetro fuso ricoperto di gioielli preziosi. «Ehi!» rise con una risata che sembrava il raglio di un asino. «Siamo ricchi, signora! Cosa compreremo prima?» Ancora ridendo, gettò dei pezzi di vetro in aria. «Tutto quello che vuoi, signora!» gridò. «Ti comprerò tutto quello che vuoi!» Il lampo brillò di nuovo attraverso il cielo e sorella Creep vide l'intero muro restante del negozio Stubenglass esplodere in accecanti fiammate di colori. Rosso rubino, smeraldo profondo, blu zaffiro mezzanotte, topazio fosco e bianco diamante. Si avvicinò al muro con le scarpe che scricchiolavano sulla sabbia, allungò una mano e lo toccò. Il muro era pieno di gioielli e sorella Creep si rese conto che i tesori di Tiffany, Fortunoff e Cartier, dovevano essere stati scagliati fuori dagli edifici, dovevano aver vorticato in un fantastico uragano di gemme lungo la quinta strada e dovevano essersi mescolati alle figure di vetro del posto magico. Le centinaia di gioielli nella parete bruciata di marmo verde trattennero la luce per alcuni secondi e poi il bagliore sfumò, come lampade dai molti colori che si spengono. «Oh, che spreco!» pensò. «Oh, che terribile, terribile spreco!» Arretrò con gli occhi pieni di lacrime e un piede scivolò su un pezzo di vetro. Cadde sul fondo schiena e restò seduta lì, senza più alcuna volontà di rialzarsi. «Stai bene!» Arti si avvicinò cautamente a lei. «Ti sei fatta male, signora?» Lei non rispose. Era stanca ed esaurita e decise che si sarebbe fermata proprio lì, tra le rovine del posto magico e che forse avrebbe riposato per un po'. «Non vuoi alzarti? L'acqua è proprio laggiù!» «Lasciami in pace», rispose lei debolmente. «Vattene». «Andarmene!» «Signora, dove diavolo dovrei andare?» «Non mi interessa! Non me ne frega un cazzo! Un cazzo di niente!» Raccolse una manciata di vetro fuso e cenere e lasciò che quel disastro le scivolasse tra le dita. A che serviva fare un altro passo? L'Ometto aveva ragione. Non c'era un posto in cui andare. Tutto era scomparso, bruciato e rovinato. «Non c'è speranza!» sussurrò e infilò la mano in profondità nella cenere accanto a lei. «Non c'è speranza!» Le sue dita si chiusero intorno ad altra spazzatura di vetro e la tirò fuori per vedere in che tipo di rifiuto si erano trasformati i suoi sogni. «E quello che diavolo è?» chiese Arti. Nella mano di sorella Krip c'era un cerchio a forma di ciambella di vetro, con un buco al centro largo circa 15 centimetri. L'anello stesso aveva uno spessore di 5 centimetri e forse aveva un diametro di 17. Intorno al bordo dell'anello sporgevano cinque punte di vetro, a intervalli regolari. Una sottile come un punteruolo da ghiaccio, una seconda larga all'incirca quanto una lama di coltello, una terza uncinata e le altre due semplicemente brutte. All'interno del vetro erano intrappolate centinaia di ovali e quadrati scuri di varie dimensioni. Nella profondità del vetro si connettevano le strane linee di una ragnatela. «Ne spazzatura», mormorò, e fece per gettarlo di nuovo sul mucchio di rifiuti quando ci fu un altro lampo. Di colpo l'anello di vetro esplose in una luce infuocata e per un istante sorella Krip pensò che le si fosse incendiato in mano, urlò e lo lasciò cadere e Arti gridò «Gesù!». La luce si spense. La mano della donna stava tremando. Si guardò il palmo e le dita per assicurarsi di non essere stata austionata. Ma non c'era stato calore, solo quella fiammata accecante di luce. Poteva ancora vederla pulsare sul fondo dei suoi occhi. Allungò una mano verso l'oggetto e poi la ritrasse di nuovo. Arti si avvicinò e si chinò a poca distanza. Sorella Krip permise alle dita di accarezzare il vetro prima di ritrarre di nuovo la mano di scatto. Il vetro era liscio, come velluto freddo. Vi lasciò appoggiate le dita e poi lo afferrò e lo raccolse dalle ceneri. Il cerchio di vetro restò scuro. La donna lo fissò e sentì che il cuore le batteva più forte. Nelle profondità del cerchio di vetro c'era una scintilla a cremisi. Iniziò a crescere come una fiamma e ad allargarsi ad altri punti dentro l'anello, pulsando e pulsando, diventando ogni secondo più forte e luminosa. Un rubino grosso quanto l'unghia del suo pollice brillò di un rosso acceso. Un altro più piccolo tremolò di luce, come un fiammifero che brucia al buio. Un terzo rubino bruciò come una cometa. Poi un quarto e un quinto, inglobati in profondità nel vetro freddo, iniziarono a prendere vita. Il bagliore rosso pulsava e pulsava e sorella Crip si rese conto che la pulsazione andava a ritmo con il battito del suo cuore. Altri rubini luccicarono, fiammeggiarono e arsero come braci. Di colpo un diamante brillò di un luminoso bianco bluastro e uno zaffiro da quattro carati esplose in un accecante fuoco cobalto. Quando il battito di sorella Crip accelerò, la stessa cosa accadde all'esplosione di luce delle centinaia di gioielli intrappolati nel cerchio di vetro. Uno smeraldo si illuminò di un verde freddo. Un diamante a forma di pera bruciò bianco e incandescente. Un topazio pulsò in uno scuro rosso brunastro. E ora rubini, zaffiri, diamanti e smeraldi si stavano accendendo di luce a dozzine. La luce si increspò. Viaggiando lungo la ragnatela di linee che si intrecciavano per tutto il vetro, le linee erano fili di metalli preziosi, oro, argento e platino, che a loro volta si erano fusi ed erano stati intrappolati e quando si accesero come micce e sibilanti diedero vita a ulteriori esplosioni di smeraldi, topazzi e del profondo viola dell'ametista. L'intero cerchio di vetro brillava come un cerchio di fuoco multicolore. Eppure le dita della donna non percepivano calore. stava pulsando rapidamente ora, come il battito del suo cuore, e i colori vibranti e stupefacenti diventarono ancora più luminosi. Non aveva mai visto qualcosa del genere, nemmeno nelle vetrine di uno qualsiasi dei negozi sulla quinta strada. Dentro il vetro c'erano gioielli di colore e chiarezza incredibili. Alcuni di essi grandi fino a cinque o sei carati, altri solo dei punti, che comunque bruciavano con energia feroce. Il cerchio di vetro pulsava, pulsava, pulsava. «Signora!» sussurrò Arti, con gli occhi gonfiri splendenti di luce. «Posso tenerlo in mano?» Lei era riluttante a darglielo. Ma lui lo fissava con così tanta meraviglia e desiderio che non riuscì a rifiutare. Le dita ustionate dell'uomo vi si chiusero intorno. E quando lasciò la presa della donna, la pulsazione del cerchio di vetro cambiò, assumendo il ritmo del battito di Arti Uisco. Anche i colori cambiarono leggermente, dato che aumentarono il blu e i verdi profondi, e il bagliore bianco dei diamanti e quello dei rubini diminuirono di una frazione. Arti lo accarezzò e la sua superficie vellutata gli ricordò di come era stata la pelle di sua moglie quando era giovane e loro erano sposini appena agli inizi. Pensò a quanto amava sua moglie e a quanto desiderasse essere con lei. Si era sbagliato, si rese conto in quell'istante. C'era un posto in cui andare. A casa, pensò. Devo tornare a casa. Dopo alcuni minuti restituì attentamente l'oggetto a sorella Crip. Cambiò di nuovo e lei sedette tenendolo tra le mani e scrutando nelle sue bellissime profondità. «Casa», sussurrò Arti. E la donna alzò lo sguardo. La mente di Arti non si cercava dal ricordo della pelle morbida di sua moglie. «Devo tornare a casa», disse, con la voce che si faceva più forte. D'un tratto sbatte le palpebre, come se fosse stato colpito in faccia, e sorella Crip vide le lacrime scintillare nei suoi occhi. «Non ci sono più telefoni, vero?», chiese Arti. «E nemmeno Poliziotti». «No», rispose lei. «Non credo». «Oh». Lui annuì, guardò lei e poi di nuovo i colori pulsanti. «Tu... anche tu dovresti andare a casa», le disse. Lei fece un sorriso cupo. «Io non ho un posto dove andare». «Perché non vieni con me allora?» Lei rise. «Con te? Signore, non hai notato che gli autobus e i taxi sono un po' in ritardo sull'orario oggi?» «Io ho scarpe ai piedi. E anche tu. Le mie gambe ancora funzionano. E anche le tue». Distorse lo sguardo dall'anello di luce fiammeggiante e si guardò intorno nella distruzione, come se la vedesse chiaramente per la prima volta. «Buon Dio», disse. «Ah, buon Dio, perché?» «Non credo che Dio abbia molto a che fare con questo», disse sorella Crip. «E ricordo, pregavo per l'estasi e pregavo per il giorno del giudizio. Ma non ho mai pregato per qualcosa del genere. Mai». Arti annui verso l'anello di vetro. «Dovresti tenertela quella cosa, signora. L'hai trovata tu, quindi immagino che sia tua. Potrebbe valere qualcosa un giorno». Scosse la testa ammirato. «Quella non è spazzatura, signora», disse. «Non so che cosa sia, ma di certo non è spazzatura». All'improvviso si alzò e sollevò il colletto della sua pelliccia di visone. «Beh, spero che te la caverai, signora». Con un ultimo sguardo di desiderio all'anello di vetro, Arti si voltò e iniziò a camminare. «Ehi!» Anche sorella Crip si alzò. «Dove pensi di andare?» «Te l'ho detto», rispose lui senza voltarsi. «Devo andare a casa». «Sei impazzito! Detroit non è dietro l'angolo!» Non si fermò. «È fuori di testa», pensò lei. «Pio pazzo di me!» Infilò il cerchio di vetro nella sua nuova borsa Gucci e quando staccò la mano la pulsazione cessò e i colori sbiadirono all'istante, come se la cosa si fosse riaddormentata. Camminò dietro a Arti. «Ehi, aspetta! Che farai per il cibo e l'acqua?» «Immagino che li troverò quando ne avrò bisogno. Se non riuscirò a trovarli ne farò a meno. Che scelta ho, signora?» «Non molta», concordò lei. L'uomo si fermò e la guardò. «Va bene». «Diamine, non so se ci arriverò. Non so nemmeno se riuscirò a uscire da questa dannata discarica. Ma questa non è casa mia. Se una persona deve morire, dovrebbe farlo tentando di tornare a casa da qualcuno che ama, non credi?» Fece spallucce. «Forse troverò altra gente. Forse troverò un'auto. Se tu vuoi restare qui sono affari tuoi, ma Arti Uisco ha scarpe i piedi e Arti Uisco camminerà!» La salutò con un cenno e riprese a camminare. «Non è più pazzo», pensò lei. Iniziò a cadere una pioggia fredda, con le gocce nere e oleose. Sorella Cripp aprì di nuovo la borsa e toccò il cerchio di vetro sformato con un dito, per vedere cosa sarebbe accaduto. Un singolo zaffiro prese vita e le tornò in mente la luce blu che girava e le brillava in faccia. Un ricordo era vicino, molto vicino, ma prima che riuscisse ad afferrarlo era di nuovo sfrecciato via. Sapeva che era qualcosa che non era ancora pronta a ricordare. Tirò via il dito e lo zaffiro si spense. «Un passo», disse a se stessa. «Un passo e quello successivo ti porta dove stai andando. E se non sai dove andare?» «Ehi!» gridò a Arti. «Almeno cerca un ombrello! E cerca di trovare una borsa come la mia, così ci puoi mettere dentro il cibo e altra roba!» «Cristo», pensò, «Questo tizio non farà un chilometro!» Doveva andare con lui, decise, anche solo per impedirgli di rompersi il collo. «Aspettami!» gridò. Poi percorse i pochi metri fino al geyser della condotta spezzata e vi si fermò al di sotto, lasciando che l'acqua lavasse via da lei la polvere, le ceneri e il sangue. Aprì la bocca e beve fino a quando il suo stomaco non sguazzò. Adesso la fame prese il posto della sete. Pensò che forse avrebbe trovato qualcosa da mangiare o forse no, ma almeno non aveva più sete. Un passo, pensò. Un passo per volta. Arti la stava aspettando. L'istinto di sorella Crip le fece raccogliere alcuni pezzi più piccoli di vetro, contenenti gioielli, e li avvolse in una lacera sciarpa blu, mettendoli nella sua borsa Gucci. Frugò nella rovina. Il paradiso delle borse da donna e trovò una bella scatolina di giada, ma quando sollevava il coperchio produceva una musica e la melodia dolce in mezzo a così tanta morte la rattristò. Restituì la scatola al cemento in frantumi. Poi iniziò a camminare verso Arti Wisco, nella pioggia gelida, e si lasciò alle spalle le rovine del posto magico.